Qui opera con dedizione, passione e competenza professionali La sezione cittadina dell'Avo, associazione volontari ospedalieri Un bregevole sodalizio operante sull'intero territorio nazionale e che da oltre vent'anni opera anche in loco Ringraziamo sin da subito, qui ci troviamo nella sala d'accettazione dell'ospedale Guido Compagna La presidente Maria Pina Rumano è una delegazione nutrita della numerosa famiglia delle volontarie e dei volontari dell'Avo Che proprio appunto anche in queste ore hanno ripreso dopo lo stop forzato dovuto all'emergenza epidemiologica Uno stop biennale, appunto il servizio di cura, di assistenza sanitaria ai pazienti e alle rispettive famiglie Presidente Maria Pina Rumano, la storia dell'Avo è una storia che viene da lontano Ci racconti qualche peculiarità di questa bella storia? Sì, la storia dell'Avo è lontanissima, nasce nel lontano 1975 dall'intuizione di un giovanissimo medico ospedaliero Che circolando per i reparti sentì una flebile voce di una paziente che chiedeva un bicchiere d'acqua Si avvicinò a questa stanza e si accorse che il lamento di questa paziente rimaneva inascoltato I pazienti vicino a lei erano in silenzio e c'era una persona che si occupava di pulire la stanza Che rispose dicendo che non era compito suo occuparsi di questa necessità Da quel momento questo giovane medico iniziò a pensare proprio questo Ma allora a chi spetta? Esaudire il bisogno di questa persona che è in necessità E da quel momento iniziò a pensare, a riunire, a raggruppare un gruppo di amici L'Avo nacque proprio così, da un gruppo di amici che iniziò a progettare e a dare vita a questo fenomeno Chiamato il fenomeno del dare, il fenomeno dell'essere vicini all'altro Dell'essere pronti per dare un aiuto e un momento di conforto Ed è così che nacque in quel lontanissimo 1975 Sono passati tantissimi anni L'Avo è presente a Corigliano dal 2000 Sono 22 anni quindi che siamo presenti in questo presidio ospedaliero Siamo presenti in diversi reparti E operativamente, causa Covid, sono due anni purtroppo che non siamo presenti Non siamo presenti nemmeno per quanto riguarda l'accettazione Oggi quindi è davvero una giornata storica, una giornata particolare Ritrovarci qui tutti insieme è un momento di grande commozione E poter riproseguire questo percorso che dura da così tanto tempo Ci riempie di entusiasmo e ci riempie di forza, di energia e di nuove volontà Come diceva la Presidente Rumano, da un gruppo di amici una bella pagina di solidarietà Che in realtà non si esaurisce nella pur importante attività che stiamo testimonando in questi giorni Ma in un'attività che si esplica su tutto il tessuto sociale, sull'intero territorio Una delle volontarie delle associate del Lavo è Adelaide Prezzo Da sempre impegnata anche sul fronte appunto nella sfera sociale Adelaide, la questione sociale, quanto è importante la testimonianza di voi del Lavo Anche spesso per sopperire a quelli che sono i vuoti, i ritardi, i deficit delle istituzioni Nei confronti della gente comune Allora, grazie Fabio intanto per questo tuo intervento di oggi Allora, far parte dell'associazione, far parte della nostra associazione Che poi è tutto e niente Far parte del Lavo non significa soltanto indossare un camice E a volte essere scambiati per medici Già solo questo potrebbe portare lustro, potrebbe far piacere Potrebbe invogliare tanti a farlo Il nostro vero scopo è soprattutto aiutare il paziente Ma aiutarlo, sì, in modo materiale Ma aiutarlo psicologicamente, aiutarlo spiritualmente E molte volte non si riesce da parte dei sanitari Per tempo, per tante cose che hanno da fare Si trascura un pochino la fascia psicologica E noi molte volte questo è quello che riusciamo a dare ai pazienti Ed è quello per cui ci ringraziano Un aiuto, una carezza sul cuore Quando tutto intorno è frenetico Quando tutti corrono e non si ha tempo Di prestare quei due minuti a quella persona che ti chiede aiuto Questo è il nostro compito Incombenze dunque che spesso rendono impossibile agli operatori sanitari Stare vicino fisicamente, come ci dicevate l'Aida Anche moralmente a chi soffre Un'altra volontaria, un'altra associata è la signora Elena Gioie e dolori Immagino che ne avete viste tante e ne continuate a vedere davvero tante Ecco, sono sicuramente immagini indelebili Nelle menti e nei cuori di ciascuno di voi Le difficoltà, i disagi e invece gli attimi di speranza Che regala questa vostra missione civile? Eh, una domanda bella tra l'altro Noi, la nostra presenza conta tanto Perché noi portiamo innanzitutto un sorriso Il calore soprattutto E l'abbraccio Dove loro magari non... Dove loro hanno bisogno, ecco E niente, che dire E noi siamo fieri di portare questa gioia Che tra l'altro la portiamo nel cuore E la regaliamo a loro La regaliamo perché non vogliamo nulla in cambio E questa è una cosa fondamentale Soprattutto del Lavo volontari Il signor Tonino Servidio E anche lui appunto è una persona Nota per il suo impegno nel sociale Signor Tonino, una riflessione La presenza fisica e morale del Lavo Induce anche ad una considerazione di carattere più generale Veniamo da due anni nei quali siamo stati privati Di tante scelte e abitudini di tipo personale Familiare, lavorativo, scolastico e via discorrento Siamo in tempi anche di guerra Che viviamo attraverso i telegiornali Privazione appunto di libertà Quanto è importante la funzione del volontario oggi Di chi si spende al servizio dell'altro In un tempo di egoismi e di particolarismi? Io devo dire una cosa Che questo servizio Parlo anche per me personalmente Ci è mancato molto Ci è mancato la parola di conforto E la carezza che portavamo agli ammalati Ed è la gioia grande La forza di riprendere nuovamente Speriamo bene per tutti quanti Grazie Altra componente qui presente In appunto, fra virgolette Rappresentanza della famiglia Della grande famiglia del Lavo di Corigliano È la signora Rosalba Stiamo cercando appunto di fornire degli scamboli Di quelli che è appunto il vostro La vostra attività quotidiana Qui all'interno del presidio ospedaliero La Presidente poc'anzi diceva Ancora non è consentito ecco A pieno regime l'attività Quindi dei reparti Qui ci troviamo nella sala d'accettazione E cogliamo anche l'occasione Per ringraziare il Direttore Carino Il Direttore Muraca Che hanno anche consentito Anche la nostra presenza qui Con le nostre telecamere Signora Rosalba C'è una differenza Questa è una curiosità che le chiedo Tra i diversi pazienti Che voi appunto aiutate, sostenete Una particolare richiesta di aiuto C'è praticamente qualche sensazione Che le è rimasta impressa particolarmente Cosa chiedono oggi Lo diceva anche Elena I pazienti Quanti si trovano qui A vivere appunto il loro malgrado Esperienze di malattie e di dolore Sì I pazienti di solito a noi Chiedono l'ascolto L'ascolto Perché noi veniamo qua A volte non c'è bisogno di parlare noi Far parlare loro Il fatto che raccontano E ci dicono loro La loro sensazione Noi Già per noi è tantissimo L'ascolto Questo è quello che io vedo Nei pazienti Che hanno bisogno di qualcuno Che li ascolta Perché qui dentro Nell'ospedale Purtroppo Gli infermieri sono impegnati Con le loro mansioni E non hanno il tempo Di ascoltare le loro vicende Personale Siamo qua giusto Per l'ascolto Dei pazienti Grazie Rosalba Presidente Rumano Poc'anzi abbiamo anche partecipato Come Tele A1 Ad un'iniziativa Svoltasi presso La sala convegni Della chiesa Santi Nicola e Leone Di Corigliano Scalo Abbiamo anche avuto modo Di fare una chiacchierata con lei Per quanto riguarda Ecco La promozione appunto Delle attività La pre virgolette Consedetemi il termine Campagna anche di iscrizioni Di sensibilizzazione Della cittadinanza Come è cresciuta L'AVO In questi anni A Corigliano E soprattutto Anche se li vuole Rivolgere un appello A chi ci ascolta La giornata del 27 marzo È stata una giornata storica Perché abbiamo istituito Per la prima volta È stata la figura Del socio sostenitore Una figura nuova Che consente A tutti coloro I quali Non possono operativamente Fisicamente Essere presenti Nel volontariato Ma che possono dare Il loro sostegno A livello economico Per poter Consentire All'AVO Di poter svolgere Le proprie attività In maniera più Forte In maniera più autonoma In quella stessa giornata È stata istituita La figura Del primo socio onorario Questa giornata È servita Proprio a questo A creare E a far sì Che l'AVO Venisse conosciuta A livello locale Ma anche a livello esterno Perché Questa associazione Ha bisogno Di essere conosciuta Ha bisogno Di avere Intorno a sé Un tessuto Che risponde A queste esigenze Noi siamo presi Da una frenesia Quotidiana Siamo presi Dal lavoro Siamo presi Da tante problematiche E utilizziamo Probabilmente Dei pezzi Del nostro tempo In maniera inadeguata Riuscire A donare Il nostro tempo In maniera più Utile In maniera più Riempitiva Perché in realtà È questo Che il volontario fa Riempie Il suo tempo Donando Del tempo Per gli altri E questo è uno scambio È uno scambio reciproco Che arricchisce Chi dà E arricchisce Chi riceve L'appello Che posso fare È quello Di sensibilizzare Al volontariato Perché il volontariato È qualcosa Che ci cambia La vita Io posso affermarlo È davvero così Può sembrare Assurdo È mai possibile Che dare Del tempo Così Stretto Così effettivamente Non eccessivamente Carico Può riuscire A modificare La nostra visione Della vita Sì È quello che accade In realtà Il volontario Ha una visione Della vita Diverso Ha una visione Della vita Più ampia E ha un concetto Della propria vita Che comunque Lo rende Una persona nuova Nell'overo Di questa visione Nuova Più ampia Mi rivolgo Ad Adelaide Per un quesito Abbiamo parlato Poc'anzi accennato Al fatto che spesso Le associazioni Come la vostra Sopperiscono A quelli che sono I vuoti Deficiti istituzionali Quanto è importante La collaborazione E la sinergia All'interno del corpo sociale Con gli altri sodalizi Che perseguono Finalità analoghe Ma credo Che sia fondamentale Perché come si suol dire Una mano lava l'altra E tutte e due Sappiamo quello che fanno Però credo sia importante Anche perché Far parte Di un'associazione Come diceva La Presidente Poc'anzi È un dono Che si fa Cioè dare del tempo Regalare il proprio tempo Per sopperire A mancanze Dove È difficile Che tutti Riusciamo a fare tutto Ma se Ognuno Ogni Ogni persona Riesce Che vuole dedicare Del tempo A questo ovviamente Riesce a creare Quell'anelletto Che si aggancia All'altro E tutti insieme Riusciamo a fare Un bellissimo cordone Tutti insieme Riusciamo a dare Nel nostro piccolo L'aiuto Che molte volte Manca Non per negligenza Ma perché Siamo Troppo Pieni di cose Di cose da fare Dobbiamo correre Dobbiamo scappare E non ci dimentichiamo Ovviamente Di chi ci sta a fianco Io nello specifico Come anche la mia collega Siamo volontari Nel reparto di psichiatria E devo dirti la verità Era un settore A me Completamente sconosciuto Perché sai Si parla di psichiatrico E si definisce psichiatrico Il matto Io non lo chiamo pazzo Il matto E invece devo dirti una cosa Che da quando frequento Questo reparto Io mi sono resa conto Che le persone Che stanno in reparto Sono quelle più Più profonde Quelle più Con un animo nobile Che hanno davvero bisogno A volte Di essere ascoltati Di parlare Di far recepire loro Che tu ci sei E questo Molte volte Li aiuta anche A progredire Nel loro Livello Di malattia E di questo Noi ne siamo Fiere ed orgogliose Perché molte volte Ovviamente Tutti i miei colleghi Nei loro reparti Hanno fatto del bene Ma credimi Nel reparto di psichiatria In modo particolare Abbiamo avuto Delle soddisfazioni bellissime Perché a volte Non sembra Ma con nulla Con nulla Si riesce A fare miracoli Davvero A cambiare Parole che non meritano Commento Ma che inducono Molto Alla Riflessione E ci avviamo Alla conclusione Di questa nostra Prima puntata Di viaggio Nell'associazionismo Con una battuta Con una battuta A testa Signor Tonino La saggezza Di persone come lei Inducono ad una riflessione Ad un appello Perché è importante Far partecipare i giovani Le nuove generazioni Ad iniziative come queste Noi cerchiamo In ogni caso Di coinvolgere i giovani Anche se è un periodo Molto brutto Perché sono impegnati In altre cose Però ce la mettiamo Tanto E piano piano Credo Che con Con il prossimo Futuro Arriveranno pure i giovani Signora Rosalba Si parla Tanto Della possibilità Di Fra virgolette Consenditemi Il termine Che è molto brutto Sfruttare Le risorse umane Quelle persone Che sono in stato Di quiescenza Quindi sono andate in pensione Dall'attività lavorativa Roba varie E vogliono essere coinvolte Quindi abbracciate Non solo fisicamente Ma moralmente In attività di volontariato Come la vostra Perché è anche importante Per le persone Che sono un po' più In navigata età Che hanno tanto da dare Collaborare e partecipare Ad iniziative come queste Sarebbe bello Perché innanzitutto Impiegheranno il loro tempo A fare del bene Al prossimo Poi perché Mantenere la mente Allenata Fa bene Si sa che Fa benissimo E poi perché Ce n'è tanto bisogno Di persone Che hanno del tempo Da dedicare agli altri Ce ne fossero Allora Concludiamo Presidente Rumano Lei poco fa Ha utilizzato il termine Di finestra aperta Sul territorio Abbiamo rivolto Un appello Cosa fare Per partecipare Per aderire All'Avo E soprattutto Se ci sono già iniziative In gandiera Allora Noi inizieremo A settembre Il nostro corso di formazione Dove naturalmente Ci si può iscrivere È un corso di formazione Che prepara il volontario A questo tipo di servizio Faremo promozione Nelle scuole Perché i giovani Rappresentano la forza Rappresentano il presente Ma rappresentano il futuro E ci sono comunque Attività Che si possono Comunque Svolgere Sul territorio Per far sì Che l'associazione Venga conosciuta E quindi Noi ci stiamo Adoperando In questo senso Saremo presenti Anche nelle piazze Saremo presenti Anche in In attività Di altre associazioni Perché è importante Fare rete Con altre associazioni Anzi direi che è fondamentale È importante Essere collaborativi Essere propositivi Insieme alle altre forze Associazionistiche Il territorio È un territorio vasto È un territorio Che abbraccia Tantissime realtà E quindi Bisogna far sì Che questo tipo Di progetto Prosegua Continui E che il covid Non deve Averci Stoppato Ma io credo Che sia invece Questo il momento Della rinascita Della ricrescita Della ripartenza E l'Avo Da oggi Ha dimostrato Di ripartire E ha dimostrato Di essere pronta A questo percorso E allora Grazie alla presidente Maria Pina Rubanò Alle volontarie Adelaide Elena Rosalba Tonino Qui presenti Complimenti Per questa pregevole Ingommiabile attività Che svolgete sul territorio Di Corigliano E non solo E con l'ospicio Che la grande famiglia Dell'Avo Associazione Volontari Ospedalieri Possa sempre più costituire Grazie al supporto Del tessuto sociale Della comunità Delle istituzioni Una finestra aperta Un punto di riferimento Quando mai Prezioso E inossidabile In questo momento Storico Di particolare importanza Delle istituzione Delle istituzione Delle istituzione